Domenica pomeriggio, il Piacenza Calcio torna in campo nella trasferta in casa del Carpi. Mister Franzini, sarà una partita molto complicata? Sì, affrontiamo una squadra appena retrocessa dalla B che sta disputando un campionato di grande livello. Domenica ha disputato la migliore partita stagionale rifilando 5 gol a Reggiana, ma sappiamo che sono partite difficili, ma noi solitamente in queste partite siamo sempre pronti. Speriamo di farci trovare belli carichi e tosti per il tipo di partita che ci aspetta. Anche perché, come hai detto, loro sono riduci dalla grande vittoria contro la Reggiana, voi dalla prima vittoria del 2020 in casa del Ravenna, una vittoria che vi hanno infrancato? Sì, ci voleva, diciamo che i tre punti sono sempre la soluzione migliore per tutto. È chiaro che poi è venuta anche la prestazione, è venuta una partita che aspettavamo da un po'. Crediamo, speriamo che sia la scintilla per farci ripartire, come abbiamo finito il giorno d'andata. Anche perché in chiave classifica sarà un crocevia importante, in caso di impresa vi vicinereste molto al terzo posto. Sì, ma adesso più che guardare la classifica dobbiamo pensare a ogni partita perché non siamo nella condizione di guardare davanti, di guardare dietro, dobbiamo guardare noi cercando di ripetere le prestazioni, la prestazione di domenica. Di solito quando giochiamo così, quando siamo così solidi, quando siamo così compatti, disputiamo buone partite e il risultato solitamente viene. Grazie. 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 Grazie.